Al via l'edizione 2018 di Dimore e Design. Cinque palazzi storici della città sono reinterpretati da grandi designer e mostrati agli spettatori in una versione inedita. La parte interessante di questo recupero è nel fatto che è stato conservato a pieno quello che era il lavoro dell'impianto del 1500, è stato rispettato anche quello che è stata la grande variazione settecentesca che è stata il chiudere il portico al primo piano e in più abbiamo riscoperto e quindi riportato in vista e in luce alcune parti della storia di Bergamo come le mura romane che ci sono nella scalinata che dal cortile sale al primo piano, chiuse da un vetro e illuminate, abbiamo riportato in vista questo pezzo di muro romano che era quello che portava l'antica fonte di Porta San Giacomo. Essendo scavato e appoggiato nella roccia è pieno di deformità, di forme, di figure desuete. Le dimore sono tali perché accolgono da sempre il design inteso in ogni epoca come design funzionale, design simbolico, quindi gli stessi arredi, gli spazi, le forme, l'esteriorità della dimora sono legate completamente al design. Ogni domenica dal 19 settembre al 3 ottobre Palazzo Agliardi, Palazzo Terzi, Palazzo Moroni, Villa Grismondi Finardi e Palazzo Polli Stoppani spalancano le porte al pubblico e svelano una nuova identità. Quest'anno 5 tra le migliori e le più belle dimore storiche della nostra città interpretate dai più importanti designer di fama nazionale e internazionale che ogni anno interpretano, allestiscono e propongono quindi un'occasione nuova per visitare le dimore perché davvero ogni anno propongono come dire una proposta culturale di design di assoluto rilievo.